Questo è un centro aziano Aurora che ormai da 15 anni funziona, siamo riusciti dopo tanto tempo naturalmente con il contributo comune anche attivare una cucina alla sera oltre naturalmente al pomeriggio che giocano a carte, giocano a biliardo, facciamo le gite annuali naturalmente, facciamo tante cose, ma facciamo la cosa più rarocchiale di questo centro è che la sera quelli qui a casa sono soli, sia uomini e donne, vedui, vedove, hanno la facoltà di mangiare qua. E quanto si paga? Si paga dai tre euro, tre euro e mezzo, qualche volta quattro quando c'è il pesce, quattro euro quando c'è il pesce che costa caro il pesce. Allora facciamo pagare quattro euro. Ma quando sono in giro adesso che lo so vengo anche io c'è qua. Bravo, bravo. Quanta gente avete per sera? Dunque, per sera siamo circa una venti, venticinque, media, trenta, quando c'è la pizza, fino a 40, 42 quando c'è la pizza, quando sanno che c'è la pizza arrivano 40. Si paga meno? No, si paga lo stesso, però la pizza è di più. Si paga di più buono, cosa mangiamo per adesso? Si, mangiate un calcio più buono. L'aperitivo cosa? 20. Noi comunque... L'aperitivo quanto costa oggi? L'aperitivo oggi è quello più gratis. E qui questa è la... è una mostra di ceramica appunto di Armido Scadarino, 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 più attirati a bassissimi, a prego. E lui ha proprio questo rapporto con la materia, con la materia. E poi lui ha vissuto quel periodo con Fontana, quindi c'è questo, c'è questo... Si, si, ma era la stagione. Era un personaggio molto travaliato, sicuramente molto perso personalità. In che anno è molto? È nell'86. Ha avuto dei problemi grossi. Un personaggio molto complicato. A presto. Nuh... A presto. A presto. Grazie a tutti